A Sandro Mazzola, spettatore sicuramente attento e per certi versi interessati, chiedo invece un pronostico sulla settimana che verrà, o meglio, sulle tre partite decisive della Champions League. Chiudiamo e salutiamo i nostri telespettatori con quello che pensa Sandro. Ma secondo me sono tutte e tre partite... Allora, la Juve passa? Ti faccio le domande dirette così siamo più... Alla fine penso di sì, ma con molta fatica. Con molta fatica. Il Milan, che deve non perdere in casa con l'Ajax. Il Milan passa, secondo me. L'Ajax in casa è pericoloso, fuori casa no. Il Napoli che deve fare l'impresa con l'Arsenal. Lì è dura, secondo me è dura. Mi piacerebbe che passasse, ma credo che non ce la farà. Quindi due su tre. Si deve vincere 3-0 con l'Arsenal. Noi speriamo che Mazzola si sbagli. Ovviamente che sia una difesa che si ritrova di questi tempi. Grazie. Hai fatto bene a precisare. Grazie a tutti, buonanotte. Torniamo domani alle 19.45.